In questi 40 anni abbiamo avuto più di 20.000 clienti soddisfatti. Oggi andiamo a intervistare una delle nostre migliori clienti, Patrizia. Buonasera a tutti, mi chiamo Patrizia e vi voglio raccontare come ho conosciuto la Zarinet Tappeti. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di acquistare questa casa, che ha anche questo bellissimo giardino, e da lì ho avuto l'esigenza di acquistare una serie di tappeti per arredare tutta la casa, che è molto grande. Casualmente mi sono imbattuta nel negozio Zarinet, in via dei prati fiscali, e sono entrata perché dovevo comprare soltanto una guida da mettere nella zona ingresso. Invece mi sono innamorata di tutta una serie di tappeti coloratissimi, fra loro completamente diversi, di vari stili, di varie epoche, e sono riuscita in pochissimo tempo ad arredare tutti gli ambienti di questa casa, non solo, ma anche di altre case che possiedo a Biterbo, in una zona medievale molto particolare, e anche lì in pochissimo tempo tutti gli ambienti si sono abbelliti di colori, di stili diversi, con un filo logico fra loro che li fa sembrare quasi come se avessero vissuto sempre insieme, e quasi come se raccontassero la mia storia. Oltre alla competenza e serietà di tutto lo staff Zarinet, sempre disponibile e pronto a dare suggerimenti e consigli utilissimi, la cosa che mi ha colpito più di tutti è l'aspetto umano, cioè comunque il feeling e l'empatia che si crea con loro di fronte a qualsiasi dubbio o necessità di suggerimento. E questa è una cosa molto importante che distingue sicuramente questo staff da qualunque altra mia esperienza precedente, perché io in passato avevo avuto esperienze precedenti, ma nessuna mi è stata di supporto in questo senso, come mi è capitato in questa occasione. Un'altra caratteristica della Zarinet è la voglia di intraprendere sempre nuove iniziative, quindi un'attività di ricerca e di sperimentazione molto fervida e interessante. Per esempio, nello scorso anno è stata portata avanti un'iniziativa di collaborazione con un artista, Paola Romano, una scultrice, una pittrice molto affermata, che ha portato alla ideazione di una linea esclusiva di tappeti realizzati con filo di seta, in un numero limitato di esemplari, riproducente la luna, che è proprio la caratteristica e la peculiarità di questo artista. Paola Romano esegue opere che riproducono la luna anche, diciamo, con tecniche polimateriche. In questo caso si è dedicata invece alla collaborazione con Zarinet per la realizzazione di tappeti particolari in varie colorazioni e me ne sono innamorata e ne ho acquistato uno che fa la sua bella figura nel mio salone principale. Ringraziamo la signora Patrizia per l'ospitalità e per la fiducia che ha avuto in noi in tutti questi anni.